Quando cominciate a investire venite travolti da un mare di informazioni, per cui all'inizio vi sentite completamente ignoranti, ma col tempo imparate un sacco di cose e il mondo della finanza sembra a portata di mano. Battere il mercato, usare paroloni complicati, insomma un percorso per diventare investitori professionisti. In realtà la domanda più importante a cui dovete rispondere è che tipo di investitore sono? In questo video vediamo la differenza tra investitore difensivo e investitore intraprendente, come scoprire chi siamo tra i due e i vantaggi e gli svantaggi di ciascun approccio. Se vi piace il video mettete mi piace, iscrivetevi al canale, io sono Alessandro Lazzaro e vi parlo di economia e finanza in modo chiaro, semplice e completo. Uno dei libri più letti in finanza è sicuramente The Intelligent Investor di Benjamin Graham. il finanziere americano padre del value investing, nonché maestro del mitico Warren Buffett. Benché famoso per essere stato il pioniere del value investing, in The Intelligent Investor Benjamin Graham non parla affatto delle sue tecniche di investimento, ma fornisce una overview su come un investitore dovrebbe approcciarsi agli investimenti. E una delle prime cose che fa è proprio distinguere tra investitore difensivo e investitore intraprendente. Chi è l'investitore difensivo? L'investitore difensivo è l'investitore che investe, dice Graham, in aziende solide, con un ottimo record di profittabilità e un lungo record di dividendi. L'investitore difensivo è conscio che ci possono essere periodi di crisi e quindi investe anche in obbligazioni, specialmente titoli di Stato. Insomma, l'investitore difensivo ha un portafoglio ben diversificato, composto dagli asset più solidi ed è orientato a lungo termine. Che cosa vi ricorda un portafoglio con queste caratteristiche? La prima edizione di The Intelligent Investor è del 1949 e Graham muore nel 1976, poco dopo che Jack Bogle di Vanguard aveva lanciato il primo fondo indicizzato. Quindi è probabile che Graham non avesse ancora questo concetto, ma se voi leggete attentamente come Graham descrive il portafoglio dell'investitore difensivo, è chiaro che Graham consiglia l'indicizzazione. Noi sappiamo che attraverso l'indicizzazione abbiamo massima diversificazione ed esposizione alle aziende più capitalizzate e quindi più solide e più profittevoli. Grazie al fondo indicizzato riusciamo a catturare i ritorni delle aziende quotate, che, come direbbe Graham, è l'unico modo di investire per l'investitore difensivo. Invece, chi è l'investitore intraprendente? L'investitore intraprendente è l'investitore che vuole andare oltre i ritorni conservativi dell'investitore difensivo, cioè i ritorni di mercato, e quindi mette in atto una serie di strategie per andare contro il consenso. Tradotto, battere il mercato. Qui ovviamente ci si può sbizzarrire nelle tecniche che possono essere adottate per battere il mercato. Graham giustamente suggerisce il value investing, ma alla fin fine che cos'è il value investing, se ci pensate bene? È una strategia, in gergo si dice, contrarian, cioè che va contro a quello che pensa la maggior parte degli investitori. Ad esempio, value investing voleva dire l'anno scorso comprare azioni delle aziende petrolifere, cioè prendere delle decisioni contro il pensiero comune. Puffett dice, sono i fatti che mi danno ragione, non il fatto che tante o poche persone siano d'accordo con me. Certo, se l'investitore intraprendente sa quello che fa e vede delle cose che il mercato non vede, a quel punto riesce a fare meglio del mercato. C'è un punto importante qua, e ve lo dico subito, è un concetto che non passerà perché non passa mai, perché non è intuitivo, ma state attenti. La finanza di oggi divide tra investitori retail e investitori professionisti. L'investitore retail è l'investitore alle prime armi, l'investitore che non sa quello che fa e quindi è bene che stia attento a investire solo in certi fondi. L'investitore professionista, invece, è l'investitore che sa e grazie alla sua conoscenza è in grado di guadagnare con un orologio svizzero. Conosce i derivati, sa bene come valutare un'azienda e quindi, evidentemente, farà meglio di un investitore retail, in virtù delle sue conoscenze superiori. Attenzione, Graham non fa mica questa distinzione. L'investitore difensivo non è un babbeo, è un investitore che vuole ottenere ritorni di mercato. L'investitore intraprendente non è un professionista che ha imparato chissà che scienza strusa per battere il mercato, è un imprenditore del mercato finanziario. Pensateci bene un attimo, perché è palese se uno ci ragiona. Abbiamo detto che battere il mercato significa andare contro il consenso, cioè contro quello che la maggior parte degli investitori pensa in quel momento. Ma se esiste una professione di investitore con delle tecniche precise, come è possibile questo? Se tutti imparano la stessa tecnica, tutti arriveranno alle stesse conclusioni. Giusto? Come fa l'investitore professionista ad andare contro il consenso se è equipaggiato con le stesse nozioni che hanno tutti gli altri investitori professionisti? Semplice, non ci riesce. E questo è il motivo per cui la maggior parte degli investitori professionisti non batte il mercato. Chi è che riesce a battere il mercato? Chi è che riesce a fare le cose diverse da quello che fanno tutti? Non il professionista, ma l'imprenditore. Graham non parla di investitore professionista, ma parla di investitore intraprendente, nella versione americana entrepreneurial investor, cioè l'investitore che si stacca dai metodi in uso e intraprende una nuova via che non è ancora stata esplorata. Esattamente come l'imprenditore nota un vuoto di mercato e cerca di riempirlo con un nuovo prodotto. Qual è il punto? Che non c'è nessuna professione grazie a cui si batte il mercato. L'unico modo per farlo è deviare dal consenso in un modo diverso dal solito, che significa prendersi il rischio di impresa. Benjamin Graham è molto chiaro su questo. Non esiste l'investitore ignorante e l'investitore che sa. Tutti gli investitori devono sapere quello che stanno facendo e infatti il suo libro è dedicato a educare l'investitore. Praticamente si può dire che Graham avesse detto già tutto nel 1949, anche se con le tecniche dell'epoca, ma i concetti sono quelli. Ma l'investitore istruito, consapevole, può scegliere se essere difensivo o intraprendente. L'investitore difensivo è l'investitore che investe come si dovrebbe, investe in modo classico, investe come farebbe un buon padre di famiglia, per citare un'espressione del diritto italiano, e di conseguenza otterrà i ritorni di mercato. L'investitore intraprendente è l'investitore che intraprende, è l'investitore che nota una mancanza nel mercato e cerca di colmarla con la sua attività di impresa, da cui il value investing, i hedge fund, il private equity, i fondi attivisti, i fondi quant e chi più ne ha e più ne metta. E si prende il rischio che ne consegue. Più si distanzia dal pensiero comune, più i ritorni possono essere straordinari, così come possono essere le perdite, da cui le debacle incredibili anche da parte di investitori geniali, che però per forza di cose devono prendersi dei rischi per ottenere ritorni superiori. Dall'altro lato, più un investitore intraprendente si avvicina al pensiero comune, più i ritorni saranno simili ai ritorni di mercato. Avendo chiarito chi è l'investitore difensivo e chi è l'investitore intraprendente, la domanda è chi sono io? Cosa mi sento più vicino a essere? Voglio investire consapevolmente ma conservativamente e ottenere gli ottimi ritorni di mercato? O voglio cercare di andare oltre, sapendo però che posso fare peggio? Perché questo è il punto. Non è che se scegliete di essere investitori intraprendenti avrete più del mercato, non funziona così. Poi provate e potreste fare molto meglio o molto peggio. Io ovviamente mi sento investitore difensivo e penso che sia la scelta più giusta per la stragrande maggioranza degli investitori, però è una scelta personale. Una scelta che deve essere consapevole, perché le nozioni di base devono essere chiare a tutti gli investitori. Se volete sapere come funziona l'economia e come potete costruire un portafoglio di investitore difensivo, potete scaricare il mio manuale gratuito Accumulare Ricchezza. Di qui trovate il link in descrizione qui sotto. Quali sono i pro e i contro? Chiaramente l'investitore difensivo sa che otterrà i ritorni di mercato, cioè ritorni conservativi ma abbastanza stabili, mentre l'investitore intraprendente potrebbe ottenere ritorni straordinari, così come incorrere in perdite rovinose. Se vi è piaciuto il video mettete like, iscrivetevi al canale. Io sono Alessandro Lazzaro e con due video a settimana vi parlo di economia, finanza e investimenti. Ci vediamo nel prossimo video!